Mo Mo Repubblica festa a Roma per la tredicesima edizione del Premio Afrodite 2013. Riconoscimento dedicato interamente all'universo femminile nello spettacolo, in particolare nel cinema, nella fiction, nella cultura e nella creatività artistica femminile. A illuminare il red carpet pieno zeppo di flash si è appensato la splendida Maddalina Ghenéa, tubino rosa pesca per la modella e attrice e tanto sex appeal. Maddalina raggiunta a sorpresa pure dal fidanzato Gerard Butler, centauro per l'occasione e a sorriso splendido. Con il diva australiano non è affatto arrivato il crack, solo uno stupito rumor. La Ghenéa si è guadagnata la statuetta come sorpresa dell'anno e una volta sul palco ha avuto solo belle parole per l'Italia che la ama tantissimo. La Ghenéa si è guadagnata la statuetta come sorpresa dell'anno